abbiamo superato i 500 iscritti tra mattina e pomeriggio ricordo che il tracciato della family è di circa 6,7 trattino 7 chilometri quindi preparatevi a fare 6,7 chilometri almeno bisogna vincere sempre nelle cose il fatto che vinca un altro ti rende partecipi della sua vittoria lo stesso benvenuti alla seconda edizione della spring run prego portarsi tutti sulla linea 4 3 2 1 via so Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 3, 2, 1, via! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.